Milano, Italia, l'eccellenza internazionale nel settore oreca. Sette settori, 14 padiglioni, 150.000 visitatori, oltre 60.000 visitatori stranieri provenienti da 172 paesi, più di 420, ma soprattutto 5 giorni di business ed incontri. Il futuro dell'ospitalità professionale parte da qui. Host è innovazione, internazionalizzazione e qualità. La più importante manifestazione globale, rivolta ai professionisti del settore oreca, rinnova la sua leadership ad ogni edizione. Nei 5 giorni di apertura si incontrano qui migliaia di professionisti da ogni paese del mondo, alla ricerca di novità, qualità e buoni affari. Esporre a Host significa partecipare all'evento fieristico più importante, significa entrare in contatto con i più importanti buyers da tutto il mondo. Quando Host Milan succede, potrai trovare me qui, questo è il posto per essere. Il mio cervello ha quasi esplodato con l'esperienza, i sensi, la cultura di eccellenza. È un grande posto per avere buone opportunità di nuove negoziazioni. C'è un livello di eccellenza che è veramente terrifico. Sicuramente mi raccomandò, e sarò qui nel 2017 sicuramente. Nel settore pane, pizza e pasta, Host mette in mostra da sempre il meglio disponibile a livello mondiale. Dalle materie prime alle attrezzature per la lavorazione, la cottura e la conservazione. Tutto all'insegna della qualità. Host a Milano è il palcoscenico più rappresentativo per l'incontro tra domanda e offerta nei settori gelato e pasticceria. Le aziende con soluzioni eccellenti nei semilavorati, nei macchinari e nelle attrezzature trovano in Host il luogo ideale per presentare e vendere, ma soprattutto per esplorare nuovi mercati. Durante Host si svolgono le manifestazioni e le competizioni mondiali più importanti, coinvolgendo i professionisti più quotati nel mondo. Caffè e tè Per il business del caffè, Host è da sempre il luogo di incontro per eccellenza. Torrefattori, importatori, produttori ed operatori di tutto il mondo si incontrano qui per sviluppare il proprio business. Sono rappresentate tutte le fasi della trasformazione del caffè, sempre con un'attenzione particolare alle nuove miscele e naturalmente all'espresso, dove l'Italia gioca da sempre un ruolo da leader. Bar, macchine caffè, vending machine, macchine da caffè, accessori, attrezzature e beverage. Ad Host espongono le migliori aziende con ogni tipo di soluzione per tutto ciò che accade dietro il bancone di un bar efficiente e moderno, dalla colazione all'aperitivo. Completano l'offerta espositiva le aziende leader nella produzione di vending machine, un settore in grande crescita. Arredo e tavola In questo settore, la manifestazione esprime tutta la sua capacità attrattiva di domanda e offerta. Tavoli e sedute, interior design e outdoor, bagni, tecnologia, illuminotecnica e complementi. Ad Host si vedono e si toccano le soluzioni, i prodotti, il design e le nuove tendenze. Uno spazio particolare è dedicato al contract d'eccellenza. È l'area Exis. Espressione del lusso e del made in Italy. Ma Host è prima di tutto una manifestazione efficace, capace cioè di soddisfare le esigenze degli espositori, offrendo loro un parterre di visitatori eccellenti. Host è il posto di essere. Se vai a Host, vuoi dire business. Io direi una grande edizione. Ancora una volta la Host ha dimostrato di essere una fiera di primissimo livello. Questa è una fiera con una vocazione molto internazionale. Questa è la piattaforma più importante nel settore del prodotto e del prodotto. L'edizione è molto vivace, ci sono stati un sacco di visitatori. Questa è la fiera che devi essere. Questa fiera è diventata, o meglio, continua a essere la prima al mondo nel nostro settore. E questo anno, più e più persone sono arrivati a un livello molto alto e aspettiamo persone che possono decidere. Tutti i settori sono rappresentati con iniziative mirate, personaggi di spicco, ma soprattutto contenuti in grado di stimolare una domanda consapevole, dove la risposta è già lì, a portata di mano. Io credo che la Host 2015 ha stato davvero incredibile. Puoi trovare il cliente e il mercato per voi qui, ora, ora. La Host 2015 è un evento incredibile e ha dato un'ottima platforma per le persone che condividono le nostre innovazioni. È enorme, è davvero enorme. Mi sento molto inspiro qui. Tasty! Una meraviglia! Bigger than expected. Migliora anno per anno. It's excellent. Host vi aspetta a Milano dal 20 al 24 ottobre 2017.